Eccoci qua, siamo live, prima lezione di Space Instruments, appunto questo esperimento di farla anche visibile su YouTube, vediamo che succede, è un corso di solito rivolto agli studenti per corso di laurea e di dottorato, quest'anno è fatto in streaming, vediamo appunto cosa succede. Giulia ovviamente interrompi quando vuoi, il programma è, essenzialmente sono due grossi parti, uno è strumento e principi di rivelazione, quindi interazione di radiazione materia, rivelatori e apparati spaziali e così via, quindi una parte più proprio di strumentazione, e l'altro è l'ambiente spaziale, quindi appunto ambiente sole e terra, space weather, ovviamente le parti che fanno con Francesco e company, no, raggi cosmici, raggi cosmici galattici, estragalattici, quindi tutta la parte di raggi cosmici, soprattutto carichi, pochi fotoni, poi la parte più astrodinamica, astronautica, quindi orbite, propulsioni, anche qui c'è l'idea astronautica, razza e così via, in maniera semplice perché non è che si può andare nei dettagli, ovviamente il corso di astronautica è una cosa immensa, però qualche cosa piccola di conto e così via, senza altro, anche stazioni spaziali, vabbè, tu Giulia c'hai Altea sulla stazione spaziale internazionale, quindi sai di che si parla, però anche qua strumentazione e così via, raggi cosmici, radiazione, quindi poi anche qua, visto che è un corso abbastanza vario, come ti dicevo prima, faccio fare anche delle parti a Matteo Martucci di fisica spaziale, a Matteo Mergè sui diagrammi di Feynman, un conto visto in grandi linee, fa sempre bene, e poi c'era appunto Luca con la parte di Altea che vediamo se fare quest'anno. Per queste prime lezioni i libri, ma ce l'avrai, il grande classico ovviamente è il Leo, tecnica di fisica nucleare e particellare, lì c'è tutto, però fatti molto bene sono anche il NOL e il Gilmore, questo è più per i gamma, in realtà di gamma, sì, 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 perché sono quelli più generici, no? Questo qui il Leo fa tutta la parte interazione radiazione materia, non so se tu hai fatto il corso di Roberta o quello di... No, c'era la Bernabella ancora. Ah, sì, sì, vabbè, però sempre questo, perché c'è la parte appunto di strumentazione, la parte che poi si legge anche bene, e poi la parte tutta interazione radiazione materia, poi va avanti fino al Kama, che ovviamente è obsoleto. Il NOL pure è un po' più moderno, il Gilmore è figo perché fa appunto spettrometria gamma, che noi non facciamo perché stanno raggi cosmici carici, non è che... Dentro la stazione spaziale non ci arriva niente. Dopodiché vedremo anche gli altri libri, però diciamo per i tre sono questi, quindi le prime due coppie di lezioni di solito appunto sono 45 più 45 minuti, faremo un'ora e mezza, un po' meno di un'ora e mezza, vediamo che succede. Quindi interazione radiazione materia è la base di qualunque rivelatore, ovviamente, dico cose ovvie, ma tanto vale ribadirle, la radiazione, cioè in realtà è particelle con particelle, in generale la particella è un oggetto veloce che attraversa il rivelatore, che è un oggetto di solito lento, ma non è detto, perché magari come rivelatore usi il mezzo interstellare, vedi secondario, insomma non è detto, però in generale hai un oggetto veloce che incontra un oggetto lento, in qualche maniera. E a seconda se è carico gamma, appunto gamma, elettrone, alta energia, bassa, alta, neutrino e così via, devi sfruttare l'interazione che ha. Se è un'interazione elettromagnetica c'è una probabilità molto più alta, se c'è un'interazione di forze nucleari debole, tipo appunto i neutrini, ovviamente la probabilità è molto più bassa, la beta block è statisticamente carico su carico, ce n'hai tantissime interazioni, tanto più che poi quello che tu vedi è un rilascio medio, dipende insomma da che cosa uno vuole andare a vedere. Quindi in generale la differenza che si fa è tra particelle cariche e particelle neutre, e quindi tu hai leggere, sono elettroni e positroni, e questi interagiscono soprattutto elettromagnetico, anzi elettromagnetico è debole, protoni e antiprotoni o addirittura addensate in nuclei, c'è anche la forza nucleare forte oltre a queste due, di solito decadono debole, ma stanno insieme ovviamente per la forte e posso interagire perché sono carichi elettricamente. Le neutre, vabbè, X, gamma, elettromagnetiche, c'è un universo intero di corsi e corsi sterminati che vanno dalle energie basse alle energie alte, i neutroni interagiscono solo con la forte e la debole, e poi i neutrini, di solito nello spazio non li fai i neutrini, perché ti serve un rivelatore immenso e non lo puoi fare. Quello che puoi fare però è fare interagire il neutrino nell'atmosfera e vedere i secondari dallo spazio. Quindi, vabbè, dipende. Diciamo, un'interazione diretta alle neutrini non rivelatore spaziale è ancora un po' di là da venire, perché ti serve un oggetto abbastanza grande. Ciò detto, cominciamo con l'interazione di radiazione elettromagnetica a materia, e quindi le cose più semplici sono le antenne e ovviamente, perché il campo elettromagnetico, ma ripeto, dico cose ovvie, ma tanto vale ripeterle. Quindi il campo elettromagnetico è il campo elettrico e il magnetico. Questo in realtà è il fotone, però essenzialmente è un oggetto che si porta presso il campo elettrico e il magnetico. Quando interagisce con gli elettroni, soprattutto gli elettroni, ma anche i protoni, ma fondamentalmente tutta l'interazione con gli elettroni, essendo un campo elettrico comincia a far muovere l'elettrone. Se quello muove una carica, lui a sua volta può irradiare un campo elettromagnetico e quindi c'hai assorbimento, produzione di onde e così via. In generale, quando fai antenne o comunque interazione elettromagnetica a materia, appunto con bassa frequenza, tu hai quest'onda elettromagnetica a enorme lunghezza d'onda, centimetri, metri o anche decine di metri, e tu metti questi pezzi di ferro in maniera che gli elettroni si muovano in maniera sincrona con la cresta dell'onda, di solito la distanza delle barre è la cresta dell'onda e quindi tu hai una corrente molto bassa che viene amplificata poi dal preamplificatore. Ma poi la cosa bella è che poi la logica è sempre la stessa, tu hai un rivelatore che in questo caso è l'antenna, il preamplificatore che si prende il segnale basso e gli dà un po' più di spinta in maniera da ridurre il rapporto segnale-rumore o comunque di renderlo un po' più trasmissibile e poi fa tutta la tua acquisizione. In questo caso questa è radia onde corte, questa è l'antenna logaritmica perché appunto hai una lunghezza variabile per coprire un intervallo di frequenza il più elevato possibile. Qua stai nei gigahertz e quindi in realtà prendi il fronte d'onda elettromagnetico che sta nella parabola, lo assumi piatto, ma insomma arrivando nella parabola quello che c'hai è che tutta quest'area qui ti viene concentrata nel fuoco che è poi il parabola del satellite, della TV via satellite. E vabbè, e quindi questo per quello che riguarda le bassissime frequenze, anche lì lo diceva Luca prima, c'è un universo sterminato di onde, trasmissioni, risonanze, RLC e così via. Se ci muoviamo a onde un po' più elevate, appunto abbiamo le microonde, che sono le microonde, anche si sovrappongono sia col forno a microonde che con il wifi, il 4G, 5G e così via, quindi siamo dal metro che chiamano le microonde, ma soprattutto nell'ordine dei centimetri, dei millimetri. Il forno a microonde ad esempio funziona, a parte una cavità risonante perché è tutto chiuso in una gabbia di farida e così via, ma funziona perché l'onda elettromagnetica agisce sul dipolo elettrico della molecola d'acqua, perché la molecola d'acqua H2O, quindi ha i due idrogeni che sono leggermente positivi perché l'elettrone tende a stare più verso l'ossigeno, quindi c'è un dipolo elettrico e quindi questo qui viene fatto ruotare appunto dalle microonde e la rotazione fa attrito e quindi poi l'attrito delle molecole d'acqua scalda l'acqua. Per quello che poi, no, non puoi mettere il ghiaccio nel microonde, perché in realtà quello è cristallino e quindi ci vuole tanto per farlo sciogliere. Quello che succede di solito è che lo fai, un minimo di ghiaccio si scioglie di per sé o comunque con la temperatura dell'ambiente. Quando mandi le microonde scaldi quell'acqua lì che a sua volta scalda il ghiaccio, ma altrimenti sul reticolo cristallino delle molecole d'acqua non ci puoi fare niente. E poi ovviamente qua sul fondo cosmico a microonde ci stanno universi sterminati di WMAP, Planck e così via ovviamente. Andando a energie ancora più elevate, nell'infrarosso tendi ad avere le oscillazioni molecolari. Questa si dovrebbe muovere. Essenzialmente qui hai le molecole, in questo caso è un atomo di carbone 2D di idrogeno e in questo caso con queste frequenze ecciti i vari modi di oscillazione delle molecole. Quindi puoi fare spettroscopia molecolare e in questi casi appunto a seconda della frequenza, a seconda della struttura che hai, puoi eccitare o la risonanza dispari, quindi asincrona o meglio in controfase che si avvicinano o in fase che oscillano appunto contemporaneamente oppure della distanza tra l'atomo di carbonio e i due atomi di idrogeno. Eppure qui c'è tutta la spettroscopia molecolare, anche qui un campo sterminato. Arriviamo al visibile, perché dobbiamo arrivare a gamma e quindi a voglia. Arriviamo al visibile e quindi nel visibile che poi sono le frequenze onda in cui l'occhio nostro si è evoluto per percepire la luce solare e anche qui hai oscillazioni di elettroni atomici, quindi arriva l'onda elettromagnetica, ti mette in agitazione gli elettroni atomici degli oggetti che tu vedi, quelli a loro volta riemettono luce, o meglio, rimettono un campo elettromagnetico di frequenza simile o molto simile a quella che non assorbono e quindi tu hai il colore perché loro assorbono tutti gli altri frequenze tranne quella del colore. E andando oltre il blu, il violetto, arriviamo all'ultravioletto che è appunto oltre il violetto, quindi di solito lo si mette 390 nanometri, oltre 390 nanometri, e qui le cose cominciano a essere interessanti e pericolose perché si entra nel campo della radiazione ionizzante, cioè appunto la radiazione qualunque cosa si muove, ionizzante è che però è in grado appunto di tirarti fuori gli elettroni atomici e quindi diventa pericolosa perché appunto ti puoi ionizzare, finché ionizza il rivelatore è buon per lui, ma anche lì lo può danneggiare, ma quando cominci a ionizzare te magari puoi non essere troppo felice. E quindi arriva il fotone e a seconda di come è fatto l'atomo ti strappa l'elettrone, quindi poi dal punto di vista biologico può creare radicali liberi, può creare danni sul DNA, può creare tumore, quindi è ciò in male, per parafrasare i Ghostbusters. Vai ancora più in alto e hai i raggi X, qui stiamo parlando di solito, ovviamente non è che a 10 diventa X, no, sono effetti di interazione che diventano via via sempre più, si manifestano più in una certa maniera piuttosto che in un'altra. L'ultravioletto viene più o meno assorbito, il riflesso solo in parte dalla pelle, i raggi X sono più penetranti perché interagiscono meno con la materia, e quindi hai la famosa foto di Röntgen, se non mi sbaglio, ti ricordi? Giusto? Confermi? Confermi? Sì, infatti, ci metti la mano qua. E ovviamente è una foto al negativo perché i raggi X che passano in pressione dalla pellicola vengono fermati dalle ossa e quindi hai l'assorbimento. L'assorbimento, questo è importante, lo vedremo più volte, è un assorbimento esponenziale perché essenzialmente è legato a una probabilità, costante di assorbimento del fotone. Cioè tu il fotone, lo vedremo più avanti, ma insomma, mentre l'elettrone via via che entra perde energia, però non viene necessariamente subito disintegrato, il fotone o interagisce e muore là, magari producendo un secondario, oppure prosegue senza cambiare assolutamente niente. E quindi se tu hai una probabilità costante di interazione, ti ritrovi con un esponenziale di fotoni di numero decadente. Ad energie ancora più elevate, ti ritrovi con i raggi gamma, quindi sotto il nanometro di lunghezza d'onda, e qui hai tutti i vari fenomeni. Questa foto qua è uranio, vetro d'uranio, col contatore Geiger, quindi c'è tutti gli effetti che i gamma di alta energia hanno con la materia. Quindi di solito noi con MiniEuso stiamo nell'ultravioletto, con Pamela, Altea, così via, stiamo nei carichi e entra poi la produzione di coppie, soprattutto con Pamela, perché hai appunto la produzione di coppie elettromagnetiche. Ci sono tre fenomeni, il fotoelettrico, il compito, la produzione di coppie, ha più alta energia, ha più bassa energia, c'è dei cadimenti nucleari, e poi anche la fotofissione del nucleo volendo. Quindi se ritorniamo un attimo alle basse energie, puoi avere le emissioni spettrali dell'atomo di idrogeno, che sono quelle delle lampade a fluorescenza. Quindi c'è delle transizioni a livelli energetici degli elettroni ben precise, ogni lampada ha la sua, o meglio, ogni gas che tu metti ha le sue frequenze proprie, questa è la famosa H alfa che emette nel rosso e violetto, e sono transizioni dei livelli energetici degli elettroni, quindi sono transizioni discrete, ha una frequenza ben precisa, può avere un po' di Doppler, se quello si muove, insomma, si può studiare, e sono il numero finito. Quindi sai quali sono? Questo è l'idrogeno, sai esattamente dove aspettarti, te lo fai il conto e te lo sai. E appunto la maggior parte le dica, appunto poi a seconda di dove c'è la transizione, dal conto che fai, riesci a sapere che elemento chimico, e quindi in questa maniera fai spettroscopia atomica e molecolare, sia a breve distanza che a lunga distanza, appunto anche in astronomia, l'ubica, l'attica e così via. Questi sono un po' di lunghezze d'onda, questo è l'idrogeno, e poi c'è il doppietto del sodio, che di solito sono i fari antinebbia, sono in queste frequenze qua, perché la nebbia per qualche motivo assorbe di meno queste frequenze. Queste sono le famose lampade a neon, che come vedi sono nel rosso e infrarosso. Quindi in realtà le prime lampade a neon erano proprio solo con il neon e quindi emettevano solo luce rossa. Poi hanno iniziato a mischiare il gas di neon con quello di mercurio e quindi in realtà le lampade a fluorescenza hanno questi due gas, perché altrimenti sarebbero solo rosse. Invece miscelano mercurio e neon per avere una miscela di gas che ti danno più bianco, più rossa, a seconda di quello che vuoi. Poi vabbè, Fraunhofer, ma questo è solo per fare degli accenni, poi si accorse che c'erano delle linee nere allo spettro del visibile, quindi erano linee di assorbimento o sulla superficie solare o nel mezzo interstellare. In questo caso era sulla superficie solare. Ed erano queste qua. Lui le chiamò ABCD, perché giustamente come vuoi chiamarle. Poi ci fu tutta la guerra dell'ospettro di corpo nero che non si sapeva da dove veniva e così via. Adesso essenzialmente tu le sai esattamente misurare. Qui c'è l'Hα656, credo sia questa qua. e poi c'è le linee del punto del sodio, del ferro e così via. E anche lì ti dice, in realtà, in questa parte te lo farà Francesco, ma essenzialmente, sapendo esattamente dove sta sta linea, tu col Doppler vedi la velocità degli oggetti. Perché si sposa se il plasma si avvicina o sta lontano. E ancora più figo, riesci a vedere lo splitting Zeeman, perché lì c'è il campo magnetico e quindi in realtà vedi la struttura fine e iperfine dei vari elementi. perché poi qui di luce solare ce n'hai quanta ne vuoi o quasi. Quindi ti metti là, ti metti col filtrino, te lo vedi quanto si sposta, te lo studi e quindi fai delle immagini fenomenali. Dopodiché, vabbè, queste sono più per... perché vanno dette, no? Questo è l'ospetto di corpo nero, i nostri occhi si sono evoluti per vedere al picco, bla bla bla. La luce solare fuori dell'atmosfera essenzialmente è questa qui, che non si vede in giallo. Eccola qua. Riflette bene il corpo nero, la temperatura, secondo di come la metti, quella della fotosfera, è 5-6 mila gradi Celsius, arriva nell'atmosfera e viene assorbita. Quindi viene assorbita sia per assorbimento secco, perché comunque c'è l'aria e mezzo, l'idrogeno, buon'oltre, azoto e ossigeno e anidride carbonica e quindi te l'assorbe. Sia poi c'è delle linee ben specifiche di assorbimento a seconda... Qui c'è il famoso ozono che ti ammazza gli ultravioletti e quindi il buco dell'ozono, sei richiuso e così via. E questo è bene perché ti salva dagli ultravioletti fuori per strada. E poi ci sono altre righe di assorbimento dell'ossigeno, le molecole d'acqua e così via. Anche qua è bello perché riesci a vedere, poi a seconda di dove ti metti, riesci a vedere ad esempio la CO2 e le altre righe. Qua giusto per, di nuovo, per la cronaca, appunto, quindi cosa c'hai? Che la lampada incandescenza è come quella del sole, quindi c'hai... Questo è proprio un reticolo di diffrazione, è esattamente quello che vedi se metti un reticolo di diffrazione davanti a una lampada incandescenza e ora non si trovano più non è manco facile, però se ti capita fallo perché anche col cd lo puoi fare e vedi proprio lo spettro di corpo nero, vedi, è uno spettro continuo, RGB, questo è fatto con la macchina fotografica, non c'è niente di trascendentale. Qui c'hai la lampada, appunto, a fluorescenza che vedi che c'ha sia il blu e il verde del mercurio e che il rosso e il giallo del neon e anche qua hai delle righe spettrali ben precise, ovviamente qua è smussata perché qui c'è la luce, ovviamente c'è una dimensione fisica. i led invece sono tre led, uno che mette verso il rosso, uno che mette verso il verde, uno che mette verso il blu e quindi c'è l'RGB e qui vedi che sono un po' più ammappazzati, però non è corpo nero, non è così continuo come questa, vedi, ci sono delle zone in cui manca la luce, perché appunto, a seconda di, questa qui è una luce più o meno bianca e quindi vedi che vi mette di più nel blu e violetto, però ogni led ha una sua funzione di emissione e poi viene assorbita e appunto le lampadine bianche sono fatte da tre led, se poi vai a vedere vicino sono tre led, tanto più che puoi cambiare i colori in molte di queste cambiando l'emissione dei vari led. L'altra cosa è che è fichissima e poi ho vinto nel Nobel da qualche anno fa, qualche decennio fa, è che quando io ero studente non c'erano i led nel blu e violetto, cioè proprio non esisteva proprio questa cosa, violava ogni forma della fisica, poi via via sono venuti fuori e sono venuti fuori. Sì, forse nel blu c'erano, ma assolutamente non potevi fare led nel bianco, sia perché non esistevano questi materiali che emettevano a queste altre transizioni, sia perché non c'era la luminosità necessaria. Sono venute fuori nel frattempo. Vabbè, qua se metti il doppio reticolo di diffrazione ti viene la stessa cosa. Questi sono due reticoli messi a 90 gradi e quindi hai il doppio reticolo. Però poi il reticolo di diffrazione appunto viene utilizzato per fare tutta la parte di spettroscopia, o con quello, con lo spettromato di Bragg, in cui c'hai appunto uno specchio in quel caso e vedi appunto le emissioni delle lampade o dello strumento che tu vai a studiare. Vabbè, quindi anche spettroscopia molecolare, questo è quello che ti accennavo prima, che in realtà se vai a emissioni ben specifiche, per esempio queste sono le emissioni di assorbimento o appunto di emissioni della CO2, quindi tu ti metti con un satellite in orbita e studi la CO2 nella troposfera. Questa è una foto della Terra con il satellite acqua, nell'infrarosso, acqua senza la C lui, perché si chiama così proprio il satellite, nell'infrarosso e quindi vedi in questo caso le emissioni della CO2 dalla troposfera e quindi hai appunto che nei paesi più industrializzati c'è più anidride carbonica perché è emessa dal tutto l'inquinamento, dalle macchine a combustione e così via. E quindi poi ovviamente qui puoi studiare l'evoluzione temporale, cioè questi sono proprio satelliti di monitoraggio che sfruttano frequenze ben specifiche per studiare qualcosa di ben preciso. In generale nell'atmosfera tu hai quello che è il rally scattering che è quello che fa vedere il suddito del cielo blu, cioè essenzialmente i fotoni ottici o nell'intervallo ottico-infrarosso ma soprattutto nell'ottico sono soggetti a due tipi di scattering. Il più famoso appunto è quello che si fa anche a fisica 2 che è il rally scattering che è omega alla quarta, no? Il cielo è blu perché emetti tanto di più con la potenza quarta della frequenza o l'inverso della lunghezza tonda alla quarta e quindi l'intensità è tanto più alta perché è tanto più alta la frequenza o quanto più bassa la lunghezza tonda. Poi c'è tutta una serie di pezzi di geometrica o comunque di r quadra perché chiaramente più stai lontano da dove c'è stato lo scattering e meno ne vedi. Questo qui dipende dalla dimensione degli elementi che fanno scattering. Se la metti per esteso ma questa qui è la stessa di questa la vedremo poco più avanti ma insomma in realtà è nell'indice di rifrazione però quello che è importante è che c'è la dimensione dell'oggetto su cui tu vai a fare scattering alla sesta. Quindi lo scattering relay essenzialmente ha luogo sulle molecole dell'aria quindi ossigeno, idro... eh sì, sempre idroge ossigeno, azoto, antidecarboniche e così via e quindi la dimensione più piccola della lunghezza tonda che tu stai avendo. Quindi puoi trascurarla e quindi hai uno scattering essenzialmente isotrofo. C'è ancora un minimo di preferenza lungo l'asse della... di provenienza del fotone originale però essenzialmente isotrofo e dipende appunto dalla omega alla quarta. La preferenza lungo l'asse è perché tu tendi a conservare il momento la quantità di moto quindi tendi a essere più emesso più in avanti oppure se lo vedi classicamente se lo colpisco e vengo rimesso indietro è più probabile che essere emesso. Però essenzialmente se vedi il diagramma polare ti dà ehm... ti dà essenzialmente una cosa isotropa e anche qua ehm... a 90 gradi grosso modo è metà quindi non... e quindi tu che cosa c'hai? La luce solare viene ehm... assorbita e rimessa dalle molecole dell'aria perché appunto qui comunque si parla di assorbimento e riemissione il fotone muore viene rimesso e quindi e l'intensità è tanto maggiore quanto appunto per la terza volta omega alla quarta e questa appunto è la stessa formula ma di nuovo non cambia nulla la cosa interessante appunto è la geometria che ti dà questo fattore un mezzo quando c'è emissione a 90 gradi l'indice di rifrazione perché ovviamente dipende dal tipo di materiale ma appunto è la dia alla sesta che tiene conto del fatto che stai osservando oggetti fisici chiede Alessandro se è la foto a questo punto no si ricarica tutto matematicamente Alessandro qua noi non siamo buoni a farlo il conto intendiamoci però chi è buono a farlo si fa il conto non è tanto difficile cioè soprattutto con lo scattering col mie scattering è molto molto complicato però è un conto matematico che si fa tranquillamente rispetto a quelli che poi vedremo più avanti che siamo ancora meno buoni a farli non si fa tutto matematicamente altrimenti non riusciresti ad apprezzare queste sottigliezze appunto di alla sesta e così via anche perché poi tu vedi i fotoni cioè tu non è che vedi lo scattering di un fotone su una particella d'aria tu vedi lo scattering di miliardi e miliardi di fotoni su miliardi e miliardi di particelle d'aria e quindi forse empiricamente si può vedere ma non so quando è stato calcolato sto punto rally era a fine ottocento se non sbaglio lo scattering mie invece è in avanti qua hai questa pure presa da hyperphysics essenzialmente lo scattering mie è sulla mondezza cioè sulle particelle di pulviscolo quindi le pm qua m10 m50 e così via sullo smog e così via e quindi è tutto in avanti perché essenzialmente è come un'onda elettromagnetica che sboccia questo grosso pallocco di materiale e quindi di nuovo se ti fa il conto viene emesso per lo più in avanti e l'emissione è tanto più in avanti tanto più grande è la particella e allora questo è complicato farlo il conto perché essenzialmente tu devi avere un'onda elettromagnetica che interagisce con un oggetto che è un dielettrico e quindi è una sfera ti devi mettere a fare tutto il conto di quest'onda qua e se vai sta anche su wikipedia volendo ma è un conto mostruoso ma ti viene fuori che essenzialmente è uno scattering in avanti e quindi questa pure presa viceramente da wikipedia ti viene fuori che la fa in trasformata di se proprio puoi soffrire la fa in trasformata di armoniche sferiche quindi fa la trasformata di Fourier in armoniche sferiche dell'onda elettromagnetica piana e quindi ci avrà i suoi multipoli fa la trasformata di Fourier della sfera e ti ritrovi le armoniche sferiche di questo oggetto qua con tutti i poli multipoli e così via se l'oggetto è molto grande o più molto piccolo domina il dipolo questo qui è sempre preso da wikipedia è in funzione della lunghezza d'onda i vari termini in parte non lo vedo manco io non ci vedo però fondamentalmente vedi domina l'emissione di dipolo elettrico se però hai altri oggetti di dimensioni differenti hai altri picchi legati all'emissione di dipolo magnetico elettromagnetico e così via comunque il risultato è che questa è questa famosa di Marte perché non si muove ecco questo è il tramonto su Marte che però è blu perché in questo caso hai scattering mie perché essenzialmente lui sta tramontando e quindi da noi è rosso perché lo scattering è sull'atmosfera terrestre e quindi tende a avere uno scattering maggiore verso il rosso su Marte il pulviscolo è differente e c'è anche molto più pulviscolo e quindi in questo caso anche l'atmosfera è meno densa tendi a disperdere di più le frequenze del rosso e del giallo e invece a lasciare vicino a te le frequenze più alte frequenze perché sono messe più in avanti e quindi te lo ritrovi appunto nel blu e questo è importante lo scattering mie lo vedremo molto molto più avanti se ci arriviamo perché essenzialmente mie e relic scattering sono i fenomeni per quando tu guardi la luce di fluorescenza degli sciami di l'agricoso più cittivo tra l'alta energia nell'atmosfera quelli mettono luce di fluorescenza perché eccitano le molecole d'azoto e poi quindi devi tener conto sia dello scattering relic e mie a seconda di da dove lo vedi sia da terra dallo spazio e così via allora interazione invece dei fotoni con la materia andiamo un po' più alta energia e appunto quello che ti dicevo prima cioè il fotone se interagisce viene distrutto in realtà anche se viene messo uguale alla stessa frequenza si potrebbe arguire filosoficamente che non è lo stesso fotone di prima e appunto la differenza è con le particelle cariche che perdono energia quindi se io ho un fascio di n fotoni essenzialmente vabbè questa è proprio base la probabilità di interagire io perdo un dn fotoni che è proporzionale al numero di fotoni che ho per il dx con la probabilità che qui tiene conto della sezione d'ulto della propria interazione e così via meno perché li perdo e quindi integri e ti ritrovi l'esponenziale e quindi questo è in generale questo vale sia dai fotoni ottici sia ai raggi gamma e poi lo vedremo perché poi è su questo che si basa la gamma terapia dei tumori cioè tu i tumori li vai a ammazzare con i raggi gamma e il problema è che appunto però un po' te le perdi nel tessuto sano questo è il coefficiente di attenuazione lineare essenzialmente quanti fotoni perdi per unità di lunghezza a parte che poi c'è il numero di nepero se vai a fare tutto il conto anche qua matematicamente viene fuori la sezione d'urto quindi questa è la sezione d'urto classica quantistica come ti pare il numero atomico quello che conta essenzialmente n0 dipende dalle costanti fondamentali che sta più avanti la densità perché ovviamente più materiale più ne perdo e poi se lo rivedi in termini di x con 0 è certe non in x con 0 dopo di che la domanda legittima è chi ha x con 0 x con 0 è la lunghezza di radiazione che è una lunghezza propria dell'interazione col fotone con la materia e viene in ultimissima analisi dal fatto che tu stai facendo il diagramma di Feynman dell'interazione fotone elettrone e quindi questo lo vedremo anche più avanti però essenzialmente tu hai fotone con elettrone come lo rigiri lo rigiri ma essenzialmente il diagramma di Feynman è lo stesso e quindi ti viene fuori un oggetto che essenzialmente dipende dalla sezione d'urto dalla densità e quindi è questa lunghezza di radiazione e quindi questo che è l'assorbimento anche se vuoi dei fotoni della materia e così via te lo ritrovi anche negli sciami elettromagnetici con le opportune costanti ma lo vediamo più avanti però il succo della questione è che quando c'è i fotoni nel 99% dei casi salvo se fai fisica nucleare e appunto fotofissione nucleo è fotoni su elettroni e quindi c'è il diagramma di Feynman di fotoni su elettroni e quindi ti viene fuori sempre questa x con 0 quindi adesso stiamo a energie molto più elevate perché appunto qui partiamo da 10 Kev quindi qui partiamo dai raggi x e andiamo fino a 1 Mev 10 Mev 100 Mev e così via quindi se vuoi fare spettroscopia x quella classica quindi anche dei materiali e così via ti tiene intorno a 10 sotto i 100 Kev di solito ma dipende pure da che cosa stai facendo e quindi l'effetto fotoelettrico quello di Einstein la cellula fotoelettrica essenzialmente anche lì arriva il mio raggio x e mi strappa un elettrone all'atomo la differenza e lo vedremo un po' più avanti ma insomma sempre lo solito la differenza è che l'ultravioletto e i raggi ottici te la strappano di solito sono gli elettroni più esterni perché l'energia è più bassa i raggi x di solito penetrano più in profondità e vanno a strappare l'elettrone più interno di nuovo lo puoi pensare classicamente che essendo di lunghezza d'onda più bassa ignora le scelpe più elevate e va più in basso cioè riesce proprio a penetrare in realtà è che siccome è un effetto quantistico innanzitutto se no non lo strappi l'elettrone più interno se non c'hai la soglia no che è il problema della meccanica classica se no non lo tiri fuori e comunque quindi la sezione d'urto è molto più elevata se sei poi in risonanza vicino appunto alla stessa frequenza dell'energia di legame di quello specifico elettrone tanto più che vedi qua si vede appena appena questo è il germanio vedi che qui c'è una sezione d'urto che è così questo puntino a sinistra appena ha energia sufficiente per andare a strappare uno degli elettroni più interni questa sale di un fattore più di 10 perché riesci e tieni conto di quell'effetto lì via via che la tua energia aumenta l'effetto fotoelettrico quindi gli elettroni li strappi comunque però sei out of tune non sei più in fase con quella specifica frequenza di risonanza e quindi scende in maniera esponenziale di vari ordini di grandezza nel frattempo entra in gioco l'effetto Compton cioè elettrone scusa fotone su elettrone mi strappa via l'elettrone che stava lì tranquillo e pacioso sul nucleo quindi l'elettrone fornisce energia scusa il fotone fornisce energia all'elettrone quello acquisisce energia quindi il fotone muore e se ne crea un altro oppure perde energia dipende come lo vuoi chiamare ma essenzialmente qui c'hai mentre qui hai effetto fotoelettrico il tuo fotone è bello che è morto qui hai comunque un altro fotone che viene creato e anche qui la sezione d'urto se uno fa tutto il conto diminuisce al crescere dell'energia fino a un certo punto che sopra sicuramente deve stare sopra la soglia di produzione di due elettroni cominci a produrre coppie quindi sopra 511 keV per 2 quindi 1022 keV quindi un MEV 22 il tuo fotone da solo non lo può fare perché ti ma è sempre lo stesso diagramma di Feynman che vedremo sempre più avanti da solo il fotone nello spazio non ti può creare una coppia elettrone lacuna perché non c'è niente se interagisce con la materia appoggiandosi all'elettrone atomico può creare quindi perché ci deve quattro vertici può creare la coppia elettrone positrone però devi stare in energia superiore a quella di produzione di un elettrone non positrone se no non lo puoi fare fai la coppia virtuale quello sì ma quella è un'altra storia via via che sali in energia il fotonelettrico te lo sai bello che è dimenticato perché sai energie molto più elevate il Compton continua ancora a essere rilevante ma poi essenzialmente hai produzione di coppie e di solito quello che succede è che quando tu hai la produzione di coppie nel in un rivelatore tu hai prodotto un elettrone un positrone di alta energia quindi quelli proseguono un po' anzi proseguono per una lunghezza di radiazione grosso modo e vengono poi deviati dagli elettroni del materiale e quindi fai brain stranung che vedremo più avanti ma essenzialmente acceleri e quindi emette un'onda elettromagnetica che altro non è che un fotone del gamma quello poi interagisce di nuovo e quindi c'è lo famoso sciame elettromagnetico che viene utilizzato nei calorimi elettromagnetici qui questo qui si capisce ancora di meno però in questo caso è ioduro di sodio perché questo è preso dal null di nuovo ovviamente a seconda innanzitutto di ioduro di sodio perché così molti calorimetri sono fatti con lo ioduro di sodio vedi che dunque qua parte da questo è un mev quindi è la stessa scala di quest'altro questi sono 10 kev quindi stiamo qua vedi che qui la k edge che è appunto la la frequenza di estrazione del k credo che sia proprio l'orbitale più interno se non sbaglio perché sennò ce ne avresti altri se io dico scemenze tu correggimi perché ha energie più elevate e quindi vedi che ce l'hai energia più elevata e perché il materiale è differente e quindi quello per strappargli questo elettrone deve arrivare ad un'energia più elevata poi hai il Compton in realtà qui lui separa l'assorbimento Compton dallo scattering Compton e poi c'è la produzione di Compton ma essenzialmente l'effetto è lo stesso però quello che l'ho messo perché qui ancora vedi c'è ancora un po' di effetto relay questo qui è lo scattering relay sta ai vari ordini di grandezza sta almeno un paio di ordini di grandezza sotto quindi all'1% quindi in un rivelatore è completamente trascurabile se vuoi andare a studiare proprio questo effetto magari te lo riesci anche a tirar fuori perché un effetto all'1% si vede tranquillamente e questo è appunto nell'olio duro di sodio nel carbonio questo è sempre questo credo che sia preso dal particle data booklet e di nuovo c'è sempre sono sempre tre effetti qui però vedi che il relay è ancora presente anche addirittura si sovrappone col Compton qui la k shell del carbonio eccola qua e qui di nuovo produzione di coppie quindi questi sono i tre metodi e di nuovo qua si vede proprio la differenza tra ad esempio carbonio e piombo il piombo avendo uno z molto più elevato l'energia di estrazione dei fotoni è molto più elevata perché ovviamente ha voglia attirare fuori scusa l'energia di estrazione degli elettroni è molto più elevata perché ha voglia attirare fuori l'elettrone dal fondo del piombo e quindi vedi che fin quasi questi qui sono dunque uno questo qui sarà se questo è un merve questo è due cinque no come fa ad essere divisi in tre parti vabbè quindi questo sarà tre un terzo e due terzi quindi fino a due terzi di ah no scusa 10 e 100 scusa 10 e 100 keV quindi fino a 100 keV hai l'energia necessaria per estrarre gli elettroni più interni dalla shell più interna del piombo è 100 keV e quindi c'è questo picco qua che è quello più interno ben dentro l'effetto Compton quindi però è ancora dominante l'effetto fotoelettrico e appunto dopodiché appunto l'effetto fotoelettrico è estrazione di elettroni questo l'abbiamo visto non ci perdiamo tempo però essenzialmente è una delle prove della meccanica quantistica cioè non è che io ho tanta energia a un certo punto l'elettrone si convince ad andarsene se non gliene do tanta tutta insieme posso scaldarlo con il microonde quanto voglio ma gli elettroni non escono manco se piangi quindi vabbè l'energia con cui escono ovviamente è tanta l'energia del fotone meno quella di estrazione quindi tu in realtà poi c'è uno spettro continuo che poi è quello che poi ti dà il continuo nel fotolettrico per questo che poi tu comunque perché tu ti serve quell'energia minima per strappare l'elettrone però poi gli dà un'energia che può essere via via sempre più elevata con efficienza sempre più bassa però lo puoi fare e quindi l'elettrone ti esce con un'energia sempre più elevata e quindi qui tu c'hai lo scattering compton energie più elevate e lo scattering compton inverso di nuovo qua non è fatto come diagramma di Feynman ma è proprio fatto come interazione brutale tra gli oggetti perché se no qui avresti il vertice dell'elettrone che interagisce e qui dovresti avere l'interazione per cui tu hai un elettrone che sullo scattering compton scusa un fotone che sullo scattering compton va e colpisce l'elettrone viene assorbito viene assorbito ne viene riemesso un altro l'elettrone che prima aveva solo l'energia della massa riposa acquisisce energia quindi l'elettrone guadagna energia e il fotone la perde e qua questo è un conto che si fa questo ero capace di farlo pure io lo facevo anni e anni fa agli studenti di fisica superiore e conservazione del quadro impulso cioè se tu scrivi proprio il quadro impulso del fotone dell'elettrone riesci a far il conto e questo è proprio semplice e viene fuori che hai anche l'effetto opposto cioè lo scattering compton inverso in questo caso se tu hai degli elettroni di alta energia che vengono dal mezzo galattico da accelerazioni da accelerazioni di particelle del gas interstellare da supernova e così via in questo caso tu quello che c'hai è che è l'elettrone che ha alta energia interagisce col fotone che può essere fotone ottico anche il cosmic microwave background a seconda di quello che c'hai di solito sono fotoni ottici ma dipende anche il quadro possono essere anche raggi x e così via insomma per fartela breve è lui che c'ha energia e il fotone la perde e quindi in questo caso hai non si può accelerare il fotone sempre a 300.000 però gli dà energia e quindi il fotone si ritrova a una frequenza più elevata e una lunghezza più bassa e noi di solito se tu gli estrai tutti gli elettroni il nucleo diventa semplicemente ionizzato e basta ma non il nucleo se ne frega allegramente se c'ha gli elettroni o no intorno a meno che non gli mandi un fotone di energia talmente elevata da fare la fotofissione quindi da riuscire a estrarre non l'elettrone dall'atomo ma un nucleone quindi un protone dal nucleo in quel caso fai lo spacchi o lo spacchi e poi gli estrai un protone questo è lo schettering compito all'inverso anche questo è molto importante in astrofisica perché appunto anche qui da questo fenomeno qua riesci a sapere o i fotoni che altrimenti non vedresti di solito è questo che ti illuminano dei fotoni che altrimenti non vedresti o anche le energie degli elettroni perché tu dici allora deve esserci almeno un elettrone di tot energia e quindi magari lì ho un sito di accelerazione di raggi cosmici ecco questo è fatto con il diagramma di Feynman questo te lo farà Matteo Merget tutto il conto che è un conto abbastanza lungo però essenzialmente anche perché il diagramma di Feynman non lo ha mai fatto sì no ma infatti non li fa mai nessuno perché a me lo fece Scherf una volta al corso di fisica nucleare dicendo almeno una volta nella vita dovete rivedere come si fa il conto perché il conto è un conto lunghissimo perché essenzialmente tu devi integrare cioè questo qua è lo schema ma in realtà visto che tu non è che questo interagisce a un'energia precisa visto che c'hai l'indeterminazione devi fare l'integrale su tutte le energie quindi e poi devi rinormalizzare e poi è un conto mostruoso però essenzialmente questo dice che lui quando si avvicina al ecco ma c'è presente bravo rispolvere i diagrammi di Feynman Matteo anzi correggimi se dico accade però essenzialmente lui l'elettrone interagisce col fotone ha tutte le energie e quindi tu qui dentro devi tener conto di tutte le possibili energie scambi di momento e di energia fai l'integrale e il risultato però e quindi tu qua dentro non lo vedi devi fare l'integrale vedi solo quello che entra e quello che esce però poi alla fine se tu inverti sempre quattro pezzi hai due fotoni e due elettroni uno con più se lo giri dall'altra parte l'integrale qua dentro è lo stesso se lo vedi come un elettrone di bassa energia che viene colpito da un fotone e che poi il fotone perde energia e quello lo acquisisce lo vedi in questa maniera se lo vedi dal verso opposto cioè da qua verso sinistra c'è lo schettering con un inverso però l'integrale poi magari devi stare a mettere a punto qualche numerello però l'integrale sotto è lo stesso e quindi poi ti ritrovi con questa famosa lunghezza di radiazione che è quella che poi dal punto di vista sperimentale è quella che conta se ti fai il quadro impulso e tutto il conto del quadro impulso vedi che la cinematica quindi qua non ti serve Feynman la cinematica relativistica ti dice che la la frequenza del fotone emesso dipende dalla frequenza del fotone iniziale dall'elettrone vedi per questo che poi è difficile che fai schettering compton sul protone perché qui c'hai 2000 di più e non ti si fila proprio e ovviamente dipende dall'angolo a cui viene riemesso quindi tu dici se io lo vedo a quest'angolo qua la differenza di frequenze sono queste qui ad esempio oppure so che se c'è una riemissione a una certa frequenza lo sfasamento in frequenza dipende è tanto più alto tanto più alta è l'angolo di emissione questa che è ancora troppo piccola forse non si vede niente comunque questa è la sezione d'urto la Klein-Niscina cioè di nuovo questa è cinematica io non ne voglio sapere niente se quello viene riemesso a quest'angolo qua deve avere quell'energia perché deve conservare il quadro impulso qui invece dice no ma vabbè ma qual è la probabilità di riemetterlo a quella frequenza allora lì sì che ti devi fare tutto il conto quel diagramma di Feynman è piangere sangue e essenzialmente diviene una sezione d'urto differenziale no? de sigma in de omega cioè la probabilità di emettere un certo fotone a una certa angolo solido che quindi dipenderà da teta e da phi in realtà non dipende da phi perché ovviamente è simmetrico per quest'angolo qua dipende solo da teta sempre perché poi è il quadro impulso e a parte tutte le frattaglie dipende appunto essenzialmente da questa formula qui da teta e quindi questa alfa è la costante di struttura fine r è il raggio classico dell'elettrone z è ovviamente il numero di elettroni che hai perché sarà tanto più alta ma essenzialmente se ti fai il conto vedi che la sezione d'urto dipende appunto dall'angolo e ora non ti so dire onestamente se è più alta forse Matteo lo sa se è più alta probabilmente per conservazione di impulso dovrebbe essere più alta in avanti però o se è più alta ad angoli elevate secondo me è più alta in avanti però guardandola così la formula non direi sicuramente sbagliato vabbè questo è lo spaziamento di prima e va bene se andiamo appunto alle energie basse vai a fare spettroscopia gamma questa era una foto di fatta a Fukushima con tutti i Geiger vicino a una delle grondaglie di Fukushima e quindi vabbè in realtà non misuri così la reazione ambientale dovresti stare a un metro dal suolo però vedi che se lo metti vicino a dove c'è andata tutta la polvere ti ritrovi 35 microsivertora che insomma è un numero di tutto rispetto perché è più o meno quanto prendono gli astronauti sulla stazione spaziale grosso modo perché a Roma c'hai 0,4 microsivertora in aero c'hai 2,3 microsivertora e nello spazio c'hai 20,30 cioè nello spazio grossomodo prendi in un giorno quello che noi prendiamo in un anno a Fukushima si vedeva fino anche a 20 microsivertora vicino alla stazione nucleare se ti vai a mettere proprio dove c'è lo scolo dove c'è il famoso hotspot dove si raduna la la polvere di cesio radioattivo è chiaro che misuri questi numeri qua però vabbè era interessante anche per controcalibrare i vari rivelatori però essenzialmente tutto questo si basa sul Geiger che non ti fa paradossalmente spettroscopia gamma cioè indipendentemente dall'energia che io ho lui mi ionizza il il gas contenuto nei vari tubi anzi questo credo sia stato solido ma questo sicuramente c'è il tubo Geiger che sta qua si vede proprio se lo vedi da vicino non in foto ve lo ionizza e mi tira fuori un elettrone l'elettrone va sul filo perché c'è una differenza di tensione va sul filo mi emette il BIP il famoso tic 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 anche quello dell'explorer il primo è la scoperta delle nuvole di radiazione di Van Allen nelle fasce di Van Allen perché proprio il contatore Geiger va dentro e conta la radiazione cosmica quella però intrappolata e quindi io indipendentemente dal gamma che io ho ho un colpo del mio contatore Geiger se voglio fare spettroscopia devo fare una cosa un po' più raffinata cioè metterci appunto un rivelatore un po' più raffinato del Geiger e andare a vedere le energie che sono coinvolte in questi in questi in queste interazioni quindi devo sapere comunque dipende che devi fare se vuoi fare proprio spettroscopia che proprio non ne sa niente di che materiale è vabbè allora devi sapere prima tutti i decadimenti tutte le emissioni dei vari materiali delle varie catene perché qui per esempio tu c'hai un rano 238 che decade alfa in torio 234 alfa è l'elio beta più beta meno sono elettroni e positrone gamma è fotone e in realtà quando c'è beta più beta meno c'è anche i neutrini che però in generale non è che siano rilevantissimi nella spettroscopia gamma salvo nel fatto che poi ti ritrovi con uno spettro continuo di di energia degli degli elettroni e positroni questo qui decade alfa quindi perde diventa torio 234 da qualche parte c'è un nucleo di elio che se ne va ad alta energia e potresti anche rilevare quello però essendo elio si ferma subito perché essenzialmente c'è una perda di energia elevatissima quindi si ferma subito dopo di che lui decade beta meno due volte prima impallati e poi di nuovo in uranio e quindi emette un elettrone e quindi lo z aumenta di nuovo quindi lo z è sceso di 2 poi risale di 2 in due emissioni di elettroni e qui volendo di nuovo se c'è un rivelatore fatto per misurare gli elettroni questo lo puoi misurare l'uranio decade alfa 1, 2, 3, 4 volte e così via e in generale a ciascuno di questi decadimenti è associato anche un'emissione gamma non dal decadimento principale ma nel fatto che di solito quando un nucleo decade decade in uno stato eccitato cioè decade in uno stato metastabile che è eccitato e che in qualche maniera dopo un po' decade un po' come un atomo che ha la fluorescenza la fluorescenza degli atomi perché c'è uno stato metastabile degli atomi che poi dopo un po' si diseccita e ti emette luce dopo qualche secondo o anche qualche minuto a seconda dell'energia che tu stai considerando e te lo emette infatti quello che tu c'hai è se hai appunto spettroscopia gamma quello che tu vuoi andare a vedere in questo caso è il famoso or infamous no questo è RUT scusa c'è il 637 che è stato emesso da Cernoby dall'esplosione nucleare nell'altra atmosfera degli anni 50 e così via da Fukushima quello che succede è che lui innanzitutto ha 30 anni di tempo di dimezzamento e quindi te lo ritrovi ancora Cernobyl in mezzo perché stai con metà del ceseo di Cernobyl ma sta ancora in giro ancora quello degli anni 50 te ritrovi quindi hai voglia con una probabilità molto piccola ma di nuovo non è trascurabile se vuoi fare i punti fatti bene te ne ritrovi il 5-4% direttamente decadimento beta meno nello stato stabile e quindi questo lo perdi se nella maggior parte dei casi però lui emette un elettrone da mezzo che è mezzo mev questo è un elettrone da mev perché la somma deve essere rispettata l'elettrone non lo vedi però lui sta in uno stato metastabile del bario 56 che in due minuti e mezzo decade nello stato stabile allora questo è l'analogo della luce di fluorescenza però del gamma ed è appunto l'emissione di questo gamma da 600 keV e quindi tu se vuoi vedere se effettivamente il cesio è cesio tu metti uno spettrometro e vedi se appunto hai un'emissione a quella frequenza là quindi questo qui è fatto con un rivelatore a stato solito della mamazzo che è un cristallino non c'ho la foto la devo prendere te la faccio della prossima volta è un cristallino a parte che stanno di là ma comunque è un cristallino di credo che sia ioduro di sodio credo e ne ha o no ioduro di cesio probabilmente che però non c'è niente col cesio della centrale perché è un cristallo è molto denso e quindi è molto è molto avendo un'altra densità è molto facile che il fotone interagisca con il rivelatore e quindi quello che c'è è uno spettro di questo genere qua questo è un oggetto molto semplice uno spettrometro molto semplice più sono buoni più sono raffinati gli spettrometri in generale e più strette sono queste righe qua più strette sono le righe e appunto meglio riesce a discriminare i vari materiali perché ad esempio qui questo è lo spettro del cesio della centrale che cosa c'hai? hai il piccolo il cesio 637 a 660 kelvin si kelvin buonanotte il cesio 160 keV che è questo qui però fucusci ha emesso anche il 50% di materiale in cesio 134 e quindi il 134 ha un altro tipo di decadimenti con un picco a energia leggermente più bassa e un picco a energia leggermente più alta poi ha anche un altro oltre il mezzo con probabilità differenti quindi vedi già qua il fatto che tu poi alla fine per calcolare le probabilità per calcolare i materiali eccetera eccetera altro non fai che calcolare i conteggi la cosa difficile è che poi se vuoi fare un rapporto isotopico ad esempio 137 su 134 è facile perché una volta che sai le probabilità relative di questi due è molto semplice se vuoi sapere esattamente quanti fotoni arrivano per eccetera eccetera devi calibrare il tuo strumento non è banale soprattutto sullo spettrometro perché appunto devi avere l'efficienza assoluta devi avere il fattore geometrico noto quindi di solito ti metti con la sorgente a una certa distanza ci metti il piombo fai un forellino in maniera che i fotoni vengano collimati insomma l'efficienza assoluta è un calcolo molto complicato però quella relativa è abbastanza semplice in questo caso appunto tu ti trovi col fatto che vedi che c'è anche il cesio 134 e il cesio 134 ha un tempo di decadimento di due anni quindi in realtà questo oramai è sparito perché sono passati dieci anni dall'incidente di Fukushima quindi hai uno su due alla 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 quinta di mezzamenti quindi perché ogni due anni questo diventa metà 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 e quindi diventa un 32esimo e quindi quello è quasi sparito infatti all'inizio quello che si capiva era che la cioè si riusciva a capire se il cesio veniva da Fukushima o no nel fatto che se vedevi il picco del 134 allora era di Fukushima altrimenti c'era ancora anche in Giappone o in Cina eccetera eccetera residui di cesio 137 legati all'esplosione della delle bombe nucleari nell'atmosfera mentre in Italia ancora si misura il cesio soprattutto in Italia del nord del 137 che è quello di Cernobil infatti poi tra le varie eventi che si sono verificate a seguito delle misure che avevano messo 100 becquerel quindi 100 decadimenti per kg per secondo nel cibo di cesio mentre le banali c'erano 125 di sodio ma quello è permesso il cesio che non è permesso si sono ritrovati a vietare l'importazione dei mirtilli della marmolata di mirtilli italiana in Giappone perché veniva appunto dall'Italia del nord e c'era troppo cesio 137 ma perché veniva appunto da da Cernobil appunto se poi tu hai un rivelatore più raffinato ma dipende di nuovo di che cosa vuoi fare i conteggi dal lino orizzontale al centro sono altri elementi tutti i soldi del cielo no allora questi qua giusto questa qui è la spalla Compton questa è un'ottima domanda questa si ci sono anche una serie di picchi del cesio ma essenzialmente questa è la spalla Compton del fatto che in questo caso il tuo tu quello che poi vai a misurare è il gamma cioè il gamma deve interagire il materiale che decade viene emesso il gamma entra nel tuo rivelatore o viene assorbito da rivelatore e tu prendi se lo assorbi completamente per effetto fotoelettrico tu assorbi completamente quell'energia l'elettrone assorbe completamente quell'energia l'elettrone non esce dal materiale e quindi tu lo assorbi del tutto lo misuri e vedi esattamente l'energia giusta se però fa effetto Compton il tuo fotone non è assorbito completamente ma viene ne scappa un po' o meglio ne produce un secondo fotone di energia più bassa che non interagisce nel rivelatore oppure può interagire c'è altri picchi ma insomma diciamo la maggior parte non interagisce e se ne va quindi il tuo elettrone che viene strappato o la serie di elettroni che vengono prodotti hanno energia minore e quindi te li ritrovi a energia più bassa e te li ritrovi a energia più bassa ma sono tante energie più basse perché ovviamente dipende dalla geometria l'avevamo vista prima con la Klein-Nicina a seconda della geometria dell'angolo di emissione del fotone dell'elettrone tu puoi avere energie che sono più elevate e più basse e quindi ce le hai tutte e quindi c'è tutta questa struttura qua soprattutto questa che si chiama appunto Spallacompton perché la convoluzione di tutte le energie per tutte le sezioni di urto ti dà grosso modo questa struttura forse si vede meglio in quest'altro grafico eccolo qua questo è un rivelatore più raffinato sempre preso dal Gilmore questo 137 e quindi tu hai il tuo picco a 660 keV questo è cesio puro quindi non c'è l'isotopo del 134 e quindi hai o multiple Compton scattering ma soprattutto hai questa spalla Compton del continuo appunto legata alla convoluzione di tutte le varie geometrie a cui puoi emettere tutti i vari i vari elettroni e il fotone appunto un pezzo del fotone te lo perdi o meglio il fotone che viene rimesso eccetera eccetera viene perso e quindi non non lo vedi e quindi questo è male sempre per parafrasare Ghostbusters perché tu vorresti un picco secco quello e basta se metti che qui c'è un altro picco che tu vuoi andare a studiare non lo studi perché stai sotto il fondo che poi è il problema di tutti i rivelatori infatti vedi qua questo è alluminio 28 e di nuovo hai il primo picco a un MEV7 e poi ai vari emetti un elettro sempre questo picco è ma qui tu stai mettendo un elettrone che se ne scappa via l'elettrone stessa e quindi ti perdi 511 keV dell'elettrone oppure ne metti ne produci due che te li perdi e quindi vedi questi picchi perché sono risonanze della tipica struttura poi c'hai anche qui la spalla Compton e la produzione di coppie vedi qui se tu produci un positrone quello poi si annichila e ti dà a sua volta un in realtà te ne dà due ma ne vedi uno e quindi vedi il picco a 511 keV e ovviamente tu devi sapere come è fatto il materiale e a seconda di come è fatto il materiale dipende che cosa vuoi studiare se vuoi vedere se ce n'è e quanto oppure se non sai qual è il materiale vuoi capire metti che tu devi fare un container vuoi vedere se è radioattivo e di che cosa devi fare spettroscopia appunto le leggi giapponesi proibivano il cesio 137 ma ammettono il sodio perché appunto sta nelle banane eccetera e il potassio scusa perché le banane hanno 125 becquerel per chilogrammo di potassio e quindi che non c'ha senso perché dal punto di vista biologico il cesio e il sodio e il potassio fanno esattamente gli stessi danni dal punto di vista del danno biologico però la legge è quella e quindi tu devi avere uno spettometro che ti separa i due altrimenti non vedi niente questo è l'uranio l'uranio ha una struttura molto più complessa perché appunto la catena dei decadimenti è molto complicata quindi ti ritrovi con tutta una serie di picchi bismuto soprattutto piombo e così via potassio 40 questo è un altro questo però credo che sia background cioè questo non viene dall'uranio questo è il famoso potassio 40 delle banane che in questo caso è ambientale e quindi ti viene a contaminare oppure sta nel tuo oggetto questo qua non è lo spettro di questi qua questo è il vetro l'uranio che si compra tra l'altro si compra pure su eBay perché è legale perché ci fanno i portaceneri i braccialetti le cose normalmente allora chiede Andrea se io cerco un picco di un altro elemento nascosto sulla spalla Compton non posso fare un bianco con un campione pure e sottraggere il contributo della spalla sì sì ma di fatto beh no dovrebbe essere proprio esattamente lo stesso identico materiale quello che si fa per ridurre quello che tu devi fare sicuramente allora se vuoi fare spettroscopia gamma per davvero devi farlo mettere in un pozzetto di piombo cioè di solito devi non lo puoi fare all'aperto perché altrimenti c'è tutta la reazione ambientale che ti seppellisce qualunque cosa quindi quello che si fa si prende il mattone di piombo e costruisci proprio una specie di pozzo una specie di cavità in cui metti rivelatore e materiale a quel punto schermi per lo più tutta la parte del tutta la parte della radiazione ambientale esterna un po' arriva comunque quindi tanto più è grasso il piombo tanto meglio stai però un po' ti entra comunque e comunque c'è i decadimenti del piombo quindi c'è comunque il fondo del piombo tanto più che si racconta ancora il famoso piombo romano della nave romana che era affondata che aveva recuperato la nave e il piombo e se li erano presi per gli NFN perché per fare fisica underground perché essendo piombo di duemila anni fa che era stato sott'acqua aveva avuto tutto il tempo per decadere e non era stato riionizzato dai reggi cosmici e quindi era a bassissima attività dopodiché quindi tutto questo ti abbassa il fondo si lo può estimare il contributo della spalla però il problema è che se tu se tu qui il tuo picco dipende se hai il picco in metà magari riesci anche a sottrarlo e a evidenziarlo ma se stai a un decimo a un centesimo il rischio è che poi tu ti inventi i picchi come capita a tutte le parti anche al CERN ogni tanto viene fuori il picco non questo ultimo dell'HCB ma i picchi perché la statistica è quella che è sottrae il fondo e quindi ogni volta che tu sottrai questi fondi qua e appunto vedi qua qui si vede perché sta sopra il fondo se il fondo fosse il doppio magari riesci a sottrarlo a stimarlo però deve essere un campione con esattamente la stessa attività perché se l'attività del campione è leggermente diversa non è ovvio che tu vedi quindi insomma si fa però ogni volta che tu fai una cosa matematica rischi sempre di introdurre una sistematica che poi boh insomma ma i errori si fanno non è che muore nessuno hanno fatto anche i neutrini più veloci della luce quindi questo è il disegno da Riegler e passiamo adesso alla parte di particelle cariche e quindi vediamo come viene qui c'è un pezzo di conti quindi abbi pazienza abbiate pazienza o saltate spurgatamente il punto qual è che l'elettrone non fa come il fotone che non è che interagisce e muore oppure ne produce un altro lui essendo una particella con carica e massa interagisce sia con gli elettroni atomici che con i nuclei atomici e lo ripeteremo più volte essenzialmente tu l'energia la perdi la perdi con gli elettroni e fai schette e a rimbalzi con i nuclei perché essenzialmente con gli elettroni atomici fai come attrito lo vedremo più avanti se colpisci un nucleo quello è talmente grosso che fai schettering elastico quindi le deviazioni della traiettoria le becchi vuoto per pieno dai nuclei la perdita di energia la becchi dal contributo degli elettroni qui tu hai una particella carica può essere elettrone muone il tau vabbè decate subito anche un protone questo è quasi irrilevante qui faremo elettromagnetismo classico che entra in un materiale che ha z2 perché il secondo materiale è elettroni di carica negativa allora raccontiamo come va a finire essenzialmente la beta block tu questa l'avrai vista 50.000 volte con 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 altea essenzialmente va come uno su v4 su tutto il resto possiamo trascurarlo o meglio non è che lo possiamo trascurare perché la perdita di energia dipende dalla velocità dell'oggetto tanto più è veloce lui e tanto meno perde energia perché di nuovo in soldoni sta meno tempo vicino agli elettroni e quindi c'è meno tempo per scambiarsi fotoni se lo vuoi fare quantisticamente o per interagire elettrostaticamente dipende dalla densità perché tanto più elettroni ci stanno e tanto più perdi energia infatti sono quasi tutte date in normalizzate a rho infatti anche qua è uno su rho perdi energia perché quanti mev quindi quanta energia perdi per densità per grammi per centimetro quadro o meglio diviso per rho e moltiplicato per lo spessore attraversato dipende dallo z quadro della particella incidente quindi se io ho degli alfa perdo quattro volte questo che poi tu fai spettroscopia nucleare con altea con pamela e così via dipende da z su a del materiale che attraverso ma questo essenzialmente è 2 cioè puoi fare delle piccolissime correzioni ma di solito il rapporto protoni su un lungomero atomico c'è tanti protoni quanti neutroni quindi ti trovi 2 e poi c'è la famosa risalita relativistica che in realtà siccome sta andando in energia molto più elevata in realtà emette un altro po' di energia perché sei relativistico e quindi c'è questo termine qui che è la risalita logaritmica e poi ci sono dei termini di correzione ma insomma questi li vedremo tra poco ma contano contano poco niente essenzialmente in termini di beta gamma che essenzialmente è l'impulso per un da di massa a parte c sparsi i c ovviamente sono sparsi a scelta e normalizzata per la densità vedi che grosso modo la perda di energia è la stessa ovviamente questo qui è gas quindi in realtà perdi mille volte di meno l'energia però se normalizzi per la densità perdi più o meno quanto il carbonio perché interagisci con l'elio invece con il carbonio lo stesso per l'idrogeno e così via e un po' più alta perché ovviamente c'è altri effetti ma insomma vuoto per pieno la verdina è la stessa e poi il punto essenziale che poi è quello che consente di fare spettroscopia nucleare o comunque di classificare i vari nuclei è che c'è un minimo sotto cui non vai cioè per quel materiale per qualunque particella visto che meno della carica elettrica se sei un elettrone o se sei un protone meno di uno non puoi essere potresti vedere i quark ma non si vedono e quindi meno di questo non hai non si vedono perché poi nel jet crei altre particelle quindi liberi non li puoi vedere e quindi ti ritrovi con un'energia minima di ionizzazione ora il conto come si fa è un po' lunghetto vediamo di renderlo il più indolore possibile essenzialmente ci sono due integrali in mezzo uno è il fatto che tu hai la tua particella che viene da più infinito e se ne va più infinito questo può essere il tuo protone il tuo elettrone il tuo mu quello che vuoi il tuo nucleo quello che ti pare c'è carica z o meglio c'è z per e massa velocità e impulso la singola interazione con il singolo oggetto vedremo poi che sarà un elettrone comunque un singolo oggetto di massa m e carica q z2e è data istantaneamente è data dalla forza di coulomb quindi c'è z1 z2 e su 4 per y0 r quadro cosenteta dove teta è quest'angolo qua perché è la distanza che tu hai uno su r quadro sostanzialmente se vuoi togliere cosenteta e la vuoi scrivere solo in termini della geometria lo scrivi in termini di b quadro e t quadro c'è questa distanza e questa distanza qua e quindi c'hai dove b è il parametro di impatto e quindi la distanza minima a cui tu ti avvicini ti viene questo oggetto alla terza potenza alla tre e mezzi essenzialmente ma questa è proprio roba di fisica 2 se tu non vuoi mettere il cosigno direttore metti b alla tre e mezzi però ti viene x cosigno direttore questo qui e devi integrare la forza solo lungo y perché lungo x prima ti respinge poi ti accelera quindi l'integrale lungo x è simmetrica e t è zero la forza lungo y non c'ha appunto la componente y scusa non x e devi integrare tra meno e più infinito integri tutta questa la variazione appunto o meglio integri la forza in dt l'integrale della forza in dt ti fa l'impulso perché f di delta t è delta impulso e ti ritrovi che va la variazione è 1 su v e già qui c'è il sentore di 1 su v quadro di di della beta block no? perché poi in realtà quello che a te interessa non è tanto la variazione di impulso ma quanto l'energia trasferita che è impulso quadro su 2m quindi quanta energia lui ha perso? beh ha perso tanta energia che è trasferito all'oggetto 2 quindi in questo caso tu calcoli z4 su 2m e m è la massa dell'oggetto il rivelatore bersaglio quindi elettrone o protone che sia quindi se fai il quadrato ti viene z1 z2 al quadrato che è quello della beta block ti viene v4 ti viene il parametro minimo di avvicinamento che adesso ce ne prenderemo cura e però ti viene 1 su m e per questo che tu se hai interazione con gli elettroni perdi energia se hai interazione con i nuclei perdi energia però ne perdi 2 per 2.000 volte di meno per cui non ah perché perché 2 perché da dove viene sto 2 ah perché c'è pure i cosi scusa è vero perché c'è pure i neutroni quindi se la consideri il nucleo come tutto un oggetto però direi che è meno rilevante diciamo l'interazione con un singolo elettrone atomico con un singolo nucleo atomico è data dalla massa del protone sulla massa dell'elettrone quindi c'è un fattore 2.000 se lo vuoi fare in termini di tutto l'oggetto hai z elettroni ma 2 z nucleoni e quindi la massa è 2 volte quindi se vuoi se consideri tutto il nucleo c'è un fattore 4.000 quindi lo scattering è ancora più basso e quindi questa è la tua interazione dopodiché devi integrare su tutti i B e questo è il secondo punto quindi uno su V4 ti viene dall'impulso che diventa energia in termini di oggetto trasferito e nel secondo caso devi fare l'integrale su tutti i B e quindi tu devi tener conto del fatto che tu hai un certo numero di elettroni a distanza questo è il tuo oggetto che ti passa c'è un certo numero di elettroni a distanza B e ce ne sono 2 N di B per D cioè 2 P greco B per numero di elettroni bla 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 e quindi ti ritrovi 2 P greco B Z numero di Avogadro sul numero atomico rho perché è quello che conta poi la distanza del materiale per delta X e quindi essenzialmente devi fare questo integrale che è dn in db dde e db quindi quanti oggetti ci sono per unità di distanza ed è questo pezzo qua è geometria tanto è un integrale circolare l'energia persa che è quella che avevamo calcolato prima e qui c'è uno su B quadro che qua non si ah perché l'ha portato dentro l'integrale esatto c'è uno su B quadro che porti dentro l'integrale e fai appunto quest'integrale da B minimo a B massimo un B te lo perdi perché viene dalla geometria no? quindi db in db fai l'integrale dall'energia minima trasferita all'energia massima e ti viene questo famoso logaritmo di E max su E min cioè perché essenzialmente che cosa è? che poi all'infinito boh sì ce lo puoi mettere ma non conta niente meno di tanto però c'è anche scusa questa è l'energia minima meno di tanto io non ti posso dare che è l'energia massima infatti se ti fa tutto il conto in cinematica relativistica viene fuori che l'energia massima che che tu puoi trasferire al tuo oggetto viene fuori da questa equazione qua e max e di nuovo in cinematica relativistica ora se mi chiede di farlo non so capace di farlo però in realtà se ti metti col quadro impulso eccetera viene fuori abbastanza semplicemente ecco ti viene fuori gamma che è il fattore di Lorenz gamma 4 beta gamma beta di nuovo per la massa dell'elettrone e meno della ionizzazione dell'elettrone di nuovo io non ti posso dare quindi ho questi due intervalli tra cui mi devo muovere e quindi ho la beta block del suo splendore quindi di nuovo l'avevamo vista prima essenzialmente a parte frattaglie come il numero d'avograto l'aroggio classico dell'elettrone eccetera eccetera z su a questo si dipende un po' dal materiale z quadro dell'oggetto per questo poi le particelle alfa si fermano subito 1 su beta 4 densità l'abbiamo vista eccoti qua il logaritmo di gamma gamma quadro su i zero al quadrato cioè il logaritmo dell'energia minima su energia massima il logaritmo ti viene dal fatto di nuovo che sta integrata a tutte le distanze 1 su b a tutte le distanze e il minimo e il massimo in realtà te lo può calare dal cielo nel senso che questa viene dalla cinematica relativistica e questa viene dalla ionizzazione degli elettroni poi ah Marco ciao Marco se conosci Luca di Fino stava là nella stanza poco fa e allora correggimi pure te se dico fesserie qua chiunque può correggermi perché poi non è detto che uno non dica troppe fesserie dopodiché ci sono tutta una serie di correzioni di shell di densità polarizzazione del mezzo ma quello fa niente cioè dal punto di vista del rivelatore lo vedremo poco più avanti in realtà noi abbiamo quasi finito il tempo ma insomma quando poi vai a fare i conti beceri di rivelatore se li vuoi misurare e calcolare si ma trascuri tutto e viene uno su beta 4 e questa viene dal particle data booklet e di nuovo nel suo splendore tutti i vari termini della beta block o meglio questo è lo stopping power cioè l'energia persa per unità di densità e quindi hai vari effetti anche qui vedi per esempio il mu questo è un mu che attraversa il tuo oggetto quindi un elettrone pesante vedi che il mu meno c'è un effetto differente perché questo barcas effect che lo stopping power dipende se c'è dal segno della carica qui siamo a bassissime energie quindi cose molto difficili da misurarsi perché quindi rivelatori molto sottili e così via essenzialmente quello che interessa nella maggior parte dei rivelatori di particelle cariche è questo pezzo qua poi vabbè qui la perdita radiativa è perché poi l'elettrone pure e il muone il muone è molto più alto l'elettrone poi mette l'energia per ben strano ma essenzialmente Altea e Pamela stanno qui sono cioè a meglio dalla discesa relativistica quindi se l'oggetto si ferma nel tuo rivelatore stai più o meno qui se è relativistico e te lo attraversa stai qua e oltre appunto poi esce quindi sì si vede un po' questa risalita relativistica ma poi dal punto di vista del rivelatore è quasi irrilevante con Altea lì dall'in cui c'è anche il tempo di volo lui esce però ha energia bassa quindi non sei contenuta ma stai grosso modo in questi intervalli di energia qua ovviamente parliamo di beta gamma perché questa è l'energia del muone se la vuoi andare a convertire perché questa è fatta proprio per il muone sul rame questa l'abbiamo già vista questa appunto poi quando la vai a fare sperimentalmente poi per quanto la fai bene ti vengono fuori cose del genere quindi non è che ti puoi aspettare sì ecco vedi qui hai i mu e i pai si vede qui la risalita relativistica su queste particelle perché sono particelle relativamente leggeri rispetto ai protoni in cui sì anche qua si vede ma è spostata ma molto di meno addirittura loro qui vedevano i camoni questa è fatta su acceleratore ovviamente questo qui è la linea del deuterio l'elettrone no è piatto perché lui da mucca è relativistico essendo qui c'è il momento non c'è beta gamma l'elettrone è subito relativistica e quindi già sta ben oltre la risalita relativistica e già è piatto quindi essenzialmente l'elettrone è assolutamente piatto allora il punto qual è che lui tu qui lo sai che questi sono o meglio qui lo capisci che questi sono elettroni perché li vedi relativistici in un punto noto però qui devi avere comunque oltre all'informazione della dndx il momento quindi in pamela c'avevamo il momento dalla curvatura della traccia del magnete in altea lida non hai il momento hai la velocità dal tempo di volo e quindi c'è un altro parametro però se non hai un altro rivelatore qui non è che puoi discriminarli le particelle ti serve un altro oggetto qui probabilmente loro quello che facevano è creavano un fascio appositamente ripulito in maniera che passassero solo elettroni e così via l'hanno sommato oppure c'è una varia roba e con altri strumenti gli davano l'informazione altrimenti appunto non puoi fare discriminazione quindi in realtà sono andato più lungo del previsto ma meglio andarci piano con queste cose uno dei primi rivelatori che poi abbiamo fatto era Nina che erano proprio 32 rivelatori al silicio questo qui è rivelatore di silicio questo è il nonno di altea o il padre a seconda di come lo conti perché sono rivelatore al silicio questi erano 6x6 mentre altea è 8x8 insomma ah scusa strip da 3x6 mi pare non mi ricordo di più ma comunque da 3x6 millimetri invece quello di altea un po' di più l'altra differenza è che qui ci sono gli amplificatori sono in ottica discreta sì in ottica in elettronica discreta cioè fatto proprio con gli operazionali con resistenze condensatori e così via adesso e quindi sono 16 canali più 16 canali perché qui in realtà c'è x e y incollati uno sopra l'altro c'è un bonding che poi è esattamente come l'altea ecco qui il bonding te li porti e te li amplifichi uno per uno adesso questo è fatto dal chip nel caso di altea è il cr14 che se li prende se li amplifica e buonanotte però spesso con questa elettronica qua anche se diciamo occupa molto più spazio e più pesante riesce a fare anche cose con range dinamico più elevato comunque dal punto di vista del rivelatore quello che tu hai è che questo oggetto entra le particelle entrano qui ce ne hai 32 di questi questo è il primo qui c'è una distanza perché così capisci meglio il fattore geometrico questo è stato su satellite quindi non è che c'è la sezione spaziale quindi problemi di spazio non ne avevi anche per poi ti faccio vedere dove è stato messo e qui c'è gli altri 31 piani di rivelatore al silicio il tutto era 20 kg se vai a fare il fattore geometrico veniva 10 cm2 di sti radiante perché erano lontani i primi due piani e almeno una coincidenza di due la dovevi fare questo è quello invece di Altea lo stesso chip di silicio di Altea 8x8 e qui tu hai i due frontend i rivelatore di frontend i cr1.4 perché questi sono 32 strip e quindi questo è da 16 e quindi ce ne devi mettere due questo erano i piani di sila E3 quindi questo forse è il padre e quell'altro è il nonno perché appunto qui l'elettronica essenzialmente è la stessa il pcb è differente la piastra però l'elettronica è la stessa e qui ogni piastra era un un piano mentre Nina erano due piastre due piani mentre qui tu le mettevi essenzialmente il piano sotto era con il chip girato di 90 gradi però l'elettronica stava sempre nello stesso nello stesso punto e quindi fai questa la sai ma insomma l'energy loss dndx versus total energy quindi tu c'hai il tuo rivelatore dovresti sapere l'angolo perché devi correggere per la profondità perché altrimenti essenzialmente tu quello che fai è delta E versus E totale queste sono misure dell'EISC EIS era o è ancora non so se funziona ancora un rivelatore di nuclei e particelle che sta al punto di Lagrange della terra del sole faceva appunto protoni particelle di bassa ed alta energia questi sono vari nuclei quindi tu vedevi i vari nuclei che rilasciano più energia con lo z quadro e poi a seconda dell'energia più alta è l'energia rilasciata e più bassa è l'energia del primario perché ovviamente scusa no dunque più alta l'energia rilasciata più alta l'energia rilasciata e più bassa l'energia ed è sulle Y perché la dndx per un dato nucleo più sei lento più rilasci l'energia e quindi ti ritrovi più in alto in questo plot infatti più alto sei più attraverso il tuo rivelatore rilasci meno energia nel rivelatore e quindi stai più a sinistra nell'energia totale rilasciata via via che sali in energia rilasci sempre meno energia nel primo piano perché la dndx nella beta block diminuisce però penetri sempre più piani del tuo rivelatore quindi trovi sempre più energia totale rilasciata finché poi non attraversi completamente il rivelatore quando attraversi completamente il rivelatore in realtà c'è quello che qui non è mostrato che è il ritorno indietro perché appunto non stai più contenendo le due particelle quindi non stai più facendo il calorimetro che assorbe completamente l'energia della tua particella iniziale ma ne assorbe una parte e quindi ti ritrovi con non so se ce l'ho no e ti ritrovi con il ritorno indietro quello che poi fate con Altea questi sono i plot della missione di di Palonespoli e che voi selezionavate solo Z quadro infatti questa è la tecna che risale dai tempi di Silani cioè tu dici io assumo che a parte lo posso fare col campo geomagnetico perché se stai all'equatore c'è particelle di più alta energia e quindi hai già la selezione della fai il campo geomagnetico e quindi hai particelle più alta energia quindi sono relativisti e quindi vanno con Z quadro altrimenti le puoi selezionare appunto con Altea è più complicato ti serve il tempo di volo oppure lo fai con Pamela c'è altri rivelatori e però essenzialmente qui hai la canale adc del tuo sistema di elettronica che converti in digitale e qui vai con Z quadro quindi boro carbonezzolo ossigeno e tutti i nuclei dei raggi cosmici questa è una delle più belle che sono state fatte di Valtea perché appunto si vede come i nuclei pari siano quelli più abbondanti nei raggi cosmici di quelli dispari anche all'interno della stazione spaziale cioè tu puoi avere pure la frammentazione infatti il boro ce n'è di meno ma insomma però si vede l'effetto pari dispari legato proprio alla produzione dei raggi cosmici galattici nello spazio il picco del ferro che è l'ultimo perché sono quelli legati alla produzione della nucleosintesi stellare delle delle stelle e oltre hai le produzioni da supernova ma sono molto meno abbondanti come raggi cosmici si fanno tutta una serie di studi ma insomma si vedono anche qualcosa dentro Altea però il problema qual è che tu ti sei e qui che entra in gioco il rivelatore ti sei fatta il tuo range dinamico è stato ottimizzato per andare da un certo intervallo ad un altro intervallo infatti i protoni li vede sì e no perché quello c'ha carica 1 e preferisci partire bene da carica 2 quindi 4 dell'elio e arrivare fino a carica 900 perché il ferro è 26 al quadrato del ferro quindi c'è un range dinamico grosso modo di un po' più di 1000 e quello è non è che puoi pretendere più di tanto e quindi in realtà appunto questo era meno sensibile anche al sila E3 meno sensibile ai ai protoni e sicuramente non agli elettroni forse i contatori dei scintillatori sopra potevano essere quelli appunto di Lidl però appunto puoi fare le abbondanze nucleari puoi fare la dose perché poi sono questi più rilevanti in termini di dose vivamente sugli astronauti quindi è chiaro che è una misura più interessante fatta così e quindi tu ti scegli il tuo intervallo del tuo rivelatore nel caso di Pamela il rivelatore era sempre silicio tungsteno sempre i stessi rivelatori infatti sono stati sviluppati per Pamela 6cr elettronica per il calorimido di imaging di Pamela che era per discriminare in questo caso elettroni da elettroni e positroni da protoni antiprotoni e quindi tu avevi 44 piani di silicio 22 piani di tungsteno quindi in mezzo ci mettevi il tungsteno per farli sceamare perché vuoi che fai lo sceamare elettronico che vedremo più avanti però l'elettronica era questa ma questi erano ottimizzati verso le basse z perché tu vuoi la singola MIP cioè il minimo ionizing particle cioè il singolo segnale che può rilasciare il tuo rivelatore la tua particella nel rivelatore quindi questo in questo caso era protone o elettroni in questo caso è rilevante però quello che tu vuoi questo è il peristallo questo è il peristallo della tua elettronica questo è il tuo 0 e questo è il tuo 1 tu vuoi che ci sia in questo caso un segnale rapporto segnale rumore 9 e quindi se fai questo poi fai i nuclei ma ti fermi il tuo rilevante al carbonio perché oltre l'ossigeno mi pare abbiamo fatto ma oltre poi non ci entri e quindi devi scegliere il tuo intervallo dopodiché questo qui aveva 4000 canali e vedi che la distribuzione la distribuzione l'andavo però io direi che abbiamo fatto un'ora e mezzo quindi l'ammorbaggio sia tuo che degli altri che è sufficiente la prossima lezione l'abbiamo detto la facciamo il primo aprile alle 2 2 e mezzo giusto? come preferisci? 2 o 2 e mezzo? facciamo 2 e mezzo dai che così c'è più tempo per va bene allora grazie a tutti aspetta che esco qui dal broadcast e ci vediamo lunedì alle 2 e mezzo 2 e mezzo 2 e mezzo